Buongiorno, siamo con Emanuele Brancatizzano, reddito del film di Michele Placi dell'ultima pedina, con il signor sindaco Giuseppe Bruzzaniti. Signor sindaco, allora una bella soddisfazione per Sam? Certamente. Un artista veramente all'altezza del compito è stato impegnato in un film molto importante che è stato proiettato su tutta Italia dal Canale 5, siamo orgogliosi, ha avuto un momento di successo anche nel nostro paese perché la nostra rappresentanza umana si è trovata ad essere vista in tutta Italia e quindi siamo veramente orgogliosi. Un piccolo centro come Sam? che ha una personalità, un uomo di talento nello spettacolo per noi è una grande soddisfazione, è una grande soddisfazione perché anche se è un piccolo centro notiamo che il paese ha una vitalità incredibile, c'è molti giovani che riescono ad affermarsi in tanti campi, in tanti settori, quindi come sindaco sono veramente orgogliosi ossia di tutti i giovani, infatti poi per la squadra che siamo quasi i primi e quindi per l'affermazione di questo nuovo neoartista Manuele Brancatesano che tutto il paese li riconosce e lo vuole molto bene.